buon pomeriggio oggi parliamo di isole di isole vere e di narrazioni forse vere forse immaginifiche forse personali di queste isole ci ritroviamo io Ernesto qui a parti invertite l'ultima volta eravamo qui a parlare di un mio libro che era sempre un'isola per titolo un'isola che non compare invece nel tuo isolare devo dire un po' questa cosa mi ha ferito però l'altra cosa che mi ha ferito e adesso lo dico pubblicamente è che Ernesto ha nei miei confronti una promessa aperta da ormai tre anni forse, quattro anni cioè mi ha promesso una sera a cena che mi avrebbe portato a pescare a largo di Genova poi non se n'è mai fatto nulla però nel frattempo lui ha scritto un meraviglioso libro in cui due amici non fanno altro che navigare a largo di Genova, parlare, bere parecchio e in fondo in un certo senso anche confidarsi qualcosa nel racconto di tutti questi luoghi e quindi non ti chiederò con chi sei andato con quale altro autore che non è qui sei andato questo è un isolario io non sapevo dell'esistenza veramente degli isolari perché non ho letto il tuo libro ed è un libro di quelli fieramente, costitutivamente e felicemente l'ho già detto non definibili se mi chiedessero ma che libro è un romanzo o non è un romanzo un reportage o non è un reportage un racconto di memoria o non è un racconto di memoria e un po' tutte queste cose insieme è un libro che si muove al confine di moltissimi generi e in fondo una definizione del libro la dai tu stesso Ernesto al fondo indirettamente nascono così gli isolari libri anfibi e perfino ambigui scritti da menti immaginose ed esatte e immaginoso ed esatto è anche il libro che racconta vi leggo l'indice per darvi un'idea del viaggio che farete leggendo questo è la piccola odissea che si compie leggendo questo libro in cui siamo sempre in mare siamo sempre in mare con il narratore diciamo con Ernesto e un altro personaggio il pilota su cui torneremo dopo che racconta di queste isole che ci racconta queste isole dalla geografia alla storia al mito prima di darti la parola volevo farvi sentire come suona questo libro che perché suona molto bene isole calipse arcipelago delle isole calipse malta gozzo comino cominotto ogigia isole di san paolo isola di manuel filfla filfoletta rocca del generale forse ce n'è una in più no affatto malta gozzo comino cominotto ogigia isole di san paolo isola di manuel filfla filfoletta rocca del generale più altri scogli che si perdono fra le onde sempre lì in dubbio se essere secche che si prendono per isole oppure isole che si mascherano da secche dal punto di vista delle isole fa una bella differenza avevo chiesto al pilota dei suoi anni sulle isole maltesi e lui subito mi aveva corretto senza alzare lo sguardo dal lavoro di rammendo del tremaglio che qualcosa forse un grosso tonno rosso gli aveva quasi distrutto i pescassori di san fruttuoso lo chiamavano il pilota perché a quanto si sapeva era il mestiere che aveva fatto per tutta la vita il pilota nel porto di genova per anni era uscito dalla diga foranea in mare aperto sull'imbarcazione d'ordinanza al massimo per mezzo miglio si era arrampicato sulla fiancata di cargo o petroliere o navi passeggeri e li aveva condotti al sicuro all'ormeggio lo aveva fatto nei giorni di Macaia con le tramontane che stirano il mare verso la Corsica o rischiando la vita sulle creste d'onda dell'Ibeccio una volta però in un giorno trasparente di gennaio qualcuno lo aveva sentito dire che prima era stato nelle isole di tutti i mari ma l'isola più irraggiungibile sia dai marinai che anche soltanto con la mente ho sempre pensato che sia Filfla il pilota aveva appoggiato le mani sulle ginocchia e ora guardava un po' me e un po' davanti a sé Filfla è una parola maltese che ne traduce un'altra araba che significa pepe e sì se la guardi dal cielo come poi molti piloti la guardarono Filfla sembra un nero grano di pepe piantato sulla superficie del mare ed è il tutto inutile per gli uomini i quali infatti non ci hanno mai portato davvero la loro storia il destino di Filfla sembra essere solo quello di sillabare una presenza al di là degli anni e dei naufragi è come se ripetesse a ogni generazione io sono ed è forse questo che la rende paurosa per gli esseri deperibili il suo durare senza senso senza promesse senza speranza fa spavento benvenuto grazie 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 senti forse partiamo proprio da Filfla che è la prima isola che scegli e è dell'isola grazie sono le cose insieme è dell'isola tutte le isole sono molto isolate in questo libro però ce ne sono alcune popolate altre proprio densamente spopolate e tu cominci con un'isola veramente che appunto è un grano di pepe sulla superficie del mare è l'essenza dell'isola dell'inquietudine che dà l'idea di isola perché a questo punto dire io sono al di là della storia al di là degli uomini nel senso al di là della storia che pure la fa è una cosa immobile ma è all'incrocio di millerotte è sempre le due cose insieme è un'isola vera è un'isola fantastica quando uno sbarca su un'isola anche questo lo scrivo in una parte del libro ha l'idea di dire beh ora la domino completamente e poi comincia a sentire le storie comincia a vedere che si sta sgretolando il ventotene è un'altra isola che come filtra si sta sgretolando tutti i vicini per fare da turista al bagno e tutto quanto quindi attenzione non vicino all'isola perché ti cadono i matti addosso è carichissima di storia eppure ha dei cammini o degli alberi mai di cui mai si è parlato questo può essere un tutto nel nulla della storia della geologia è quello che secondo me la inquieta come paesaggio e la fa diventare un paesaggio esistenziale sull'isola ci vai a fare un po' i conti a me è capitato di andare diverse volte a fare i conti con me stesso su qualche isola ecco di leggere di portarmi dei libri appresso apposta per leggerli quel particolare libro magari anche ovvio banalissimo e cose così ma per poterlo leggere lì in quella sorta di come dire molteplice solitudine che ti dà l'idea di questa comunità lanciata in un vuoto immobile perché l'isola ovviamente non naviga anche se a volte quando c'è un vento che frangere le onde sulla sua prua come detto prua sulla sua prua come filtra sembra una 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 barche in movimento e quindi sono macchine fantastiche secondo me sono macchine fantastiche che accolgono sì la fantasia l'isola del tesoro per carità l'isola del giorno dopo tutte le cose più fantastiche ma anche fantastiche per il solo fatto di essere eh salai no quello con cui si prende il pesce salai eh immaginari dentro cui restano il le tracce di ciò che gli uomini si raccontano perché l'isola rimane lì è provincialissima è tutta chiuda in se stessa così ma è attraversata da mille marinai che ci anche per caso anche perché ci naufragano tutto ciò ha una strana somiglianza con la vita ecco sembra che questa attrazione personale culturale misteriosa per le isole a te venga un po' da lontano perché il tuo primo libro del 94 lo sono segnato si chiamava Isolario sì quella era una da quanto lontano arriva questa quell'isolario viene dritto dritto da Calvino proprio dall'influenza enorme che aveva avuto Calvino che c'è un po' anche qua che c'è un po' anche qua però lì come dire più maturata ok mio padre era un medico e non era un lettore però mi leggeva le Cosmicomiche dalla mattina alla sera perché lo divertivano moltissimo come libro era un lettore di Calvino mi viene da dire ecco non può che fosse un lettore appassionato quindi è una cosa che radica in effetti profondamente in me quell'isolario lì era del tutto immaginario era forzatamente immaginario era giovanilmente non era più tanto giovane ma insomma comunque era giovanilmente immaginario un po' artificiosamente immaginario era troppo era troppo spinto cosa c'era di meno rispetto a questo libro qua cosa c'era di meno non lo so ma cosa c'era di diverso rispetto a questo in questo libro qua c'è la storia ci sono le ferite della vita fatte di racconti fatte di hai ragione di esperienze fatte di scontri fatte di nostalgie malinconie nel fondo appunto io sono un grande cortasariano quindi il fatto di che lui dicessi che la nostalgia è un modo per sentirsi sempre il fantastico è nostalgia cioè la voglia quando sei in un posto di essere in un altro posto anche questo è una cosa che è caratteristica di tutti noi quotidianamente in quel momento siamo in un'isola quando sei in un'isola senti questa cosa sei certo di essere in un posto che è addirittura definito che ha dei confini invalicabili per quella sera per quella notte per quella giornata per quello che tu vuoi e nello stesso tempo è la cosa più aperta del mondo ecco ed è questo che secondo me mette in moto oggettivamente mi viene da dire cioè non metto in moto solo in te ma nella storia dell'isola nella storia di quel territorio nella storia delle manie degli isolani dell'antipatia degli isolani che detestano chiunque vada sull'isola come ovvio come succede dappertutto il meccanismo del racconto il meccanismo del come rappresentarsi il mondo ecco ogni volta è tutto l'universo che si concentra in quella micro isola come è Filtla e in quella micro storia che non micro storia in senso buono che governa che governa il ritmo dell'isola quanti di voi conoscevano l'esistenza di Filtla tu subito sì però sei l'unico sì ci sarà motivo anche perché sì 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 era un poligono perché appunto diventa Filtla addirittura un bersaglio per la Royal Air Force nella seconda guerra mondiale insieme e la bombardano con qualsiasi ecco queste sono quelle cose e questo questo a un bello inizio è questo scoglio in mezzo al altissimo ripidissimo dove non si può attraccare non puoi salirci sopra se non sei un alpinista no e la Royal Air Force cosa lo prende come bersaglio delle esercitazioni militari quindi scaricano su quest'isola una quantità di bombe di tutti i tipi a scoppio ritardato a scoppio anticipato a scoppio a terra a scoppio in alto che avrebbero distrutto l'aria che si respira su un isola o su un territorio così limitato e questo naturalmente avviene perché tutti sicuri se è una bella isola mediterranea sembra una nave nemica un isola che ne so una nave libica o una cosa così ma l'isola è popolata da una popolazione endemica di lucertole dalla divisa a macchie rosse che nessuna delle bombe della Royal Air Force è riuscita a sterminare sta sull'isola vive si riproduce è condannata a stare sull'isola perché non può nuotare quindi non può emigrare altrove è condannata a beccarsi tutte le bombe che gli inglesi gli mandano e che altri futuri eserciti eventualmente gli mandano una leggenda una leggenda si affianca a questa e dice che gli isolani erano cattivissimi e che Dio per punirli un giorno li mandò addirittura all'inferno ma erano così cattivi che non li volle neppure il diavolo e lui li risputò sulla superficie terrestre ecco tutte queste queste storie come dire mimano la caducità mimano la caducità del male mimano la caducità del bene e della volontà e questo è molto è una lezione di morale senza la moralina si dice descrivi questo come dire tiro contro l'isola degli inglesi una guerra più che decennale contro il quasi niente si esatto e è anche una c'è un tratto che percorre molte parti del libro che ha a che fare proprio con quello che un po' dicevi di Filfla cioè la i vani sforzi dell'uomo per modificare o appropriarsi di poste di cui non è possibile appropriarsi perché sono troppo impervi da raggiungere vale per alcune isole invece estremamente a nord ad esempio però c'è nel libro al tempo stesso un tratto invece molto contemporaneo che è la distruzione o la minaccia di distruzione che l'uomo sta portando su certe isole cioè è un libro in cui in più parti si parla anche di direi cambiamenti climatici se ne parla ad esempio riguardo all'isola di Pasqua di cui la vicenda è più nota perché quella che scrive Jared Diamond in Collasso in altri libri cioè la teoria peraltro oggi un po' messa in discussione che i nativi dell'isola di Pasqua abbiano creato le stesse condizioni per la propria estinzione trasportando attraverso cioè deforestando l'isola dalle palme per trasportare le grandi teste e questo è un fatto più noto però ce ne sono alcuni invece meno noti tra cui uno che mi ha molto colpito ci volevo arrivare dopo ma sei tu che mi hai portato in questa direzione qua e qua siamo vedete come saltiamo anche tra i si tra le varie latitudini aspetta un attimo qui siamo nelle isole degli orsi molto a nord e scrive a un certo punto gli orsi del nord e quindi anche quelli delle isole degli orsi tendono a diventare ermafroditi e questo non in conseguenza della loro vita solitaria sono i veleni industriali tra cui il DDT che si accumulano nell'artico e riescono a mutare il sistema ormonale degli orsi i veleni evaporano ad alte temperature vengono portati via dai venti come quelli che hanno gonfiato la nostra vela questa sera e quando raggiungono le temperature glaciadi dell'artico si condensano e si posano sulla superficie e sugli orsi e sulle loro isole non che gli orsi si sveglino un bel mattino adottati degli organi riproduttivi sia maschili che femminili ma con i nuovi nati quindi le isole sono sempre state un elemento anche un po' il canarino della miniera sì il canarino della miniera è un ottimo esempio dove ti hanno portato queste ricerche nel senso della mutazione della fragilità ecco delle isole anche non solo del film no no non soltanto film per esempio ecco la fragilità forse la fragilità con la maiuscola la fragilità forte ecco è uno è una delle delle piste possibili la fragilità che ha una versione anche geologica per esempio nelle orcadi come come forse ti dicevo le orcadi queste terre le orcadi sono in Scozia io adesso lo so perché ho letto il libro e ho sonato su Google comunque se voi lo sapevate già buon per voi comunque sono in Scozia sì polverizzate in cima e in cima e in cima alla Scozia e su terre piatte sono terre piatte ovviamente venti pazzeschi a un momento su una di vestito c'è una lieve collina che sarà la collina non è una collina naturalmente è una mausoleo una una cosa funeraria che hanno visto i vichinghi migliaia di anni fa sono passati hanno depredato hanno preso tutto hanno portato via qualsiasi cosa ci fosse tranne un'escrizione e qui comincia la fragilità la fragilità geologica dell'uomo tranne un'escrizione fatta con un coltellaccio da vichingo che dice le parole immortali Ingeborg è la ragazza più bella ecco questo gesto di dire questa cosa che è l'unica verità a cui possiamo arrivare in fondo che possiamo dire dell'universo e dell'uomo che Ingeborg è la ragazza più bella questo vichingo lo scrive e mi mando un gesto che poi migliaia migliaia milioni di persone continuano a fare ancora oggi con lucchetti cioè di cercare di scrivere su qualcosa di eterno diciamo l'elemento più fragile della nostra vita quotidiana pensate solo ai tatuaggi che si fanno i ragazzi in continuazione non sono altro che questo qualcosa di indimenticabile eterno indelebile su che cosa? sul corpo umano è montevole deperibile e quel vichingo lì lo fece su una cosa che è durata fino ad ora ma è l'emblema della deperibilità così come dei sistemi figurati dei sistemi politici anche lì c'è anche lì ci sono delle lotte tremende per nulla ecco danno anche una sorta di distanza ironica al mondo al mondo napoleonico nel quale pensiamo continuamente di vivere veniamo al pilota l'avete già incontrato e più avanti viene descritto così il gozzo scivola via per inerzia nel mare piatto del tramonto il pilota ha appena spento il motore perché ha deciso che il punto è questo mentre lo guardo che raccoglie dal mare un secchio d'acqua e poi ci infila dentro due bottiglie di pigato penso a una frase che qualcuno ha detto tanto tempo fa a proposito di questa specie di marinai il vero pilota quel qualcuno ha detto è il marinaio che naviga più sul fondo che sulla superficie in questo tramonto il pilota è quel marinaio un po' di dietro le quinte sul pilota lo devi dare non ti è che mi guardi con quell'aria interrogativa cioè no il pilota sì scusa perché si legge tutto il libro con questo dubbio cioè che il pilota sia veramente un doppio tuo che ci sia l'ombra comunque di qualcun altro nel pilota no il pilota sì e tutte queste cose accennate e tutte queste cose iniziate e tutte queste cose forse addirittura un po' un po' non dette il pilota racconta a se stesso racconta queste cose a se stesso e le racconta all'altro che sembra solo ascoltare ma il fatto di ascoltare è l'inizio è solo un inizio per il narratore il fatto che ci sia uno che come sai benissimo che lo che lo che lo che lo che lo che lo ascolta ecco il pilota potrebbe essere il tesoriere di queste storie o è solo soltanto un ponte un passaggio il pilota non insegna nulla mostra comunque queste storie non sono in alcun modo penso che tu sia d'accordo pedagogiche pedagogiche in alcun modo ecco le racconta come descriverebbe un tramonto come descriverebbe un amico o come descriverebbe la sensazione che prova nei confronti dell'altro di un altro di una persona che ama ecco soltanto che tutti i sentimenti e tutte cose in un libro così non è possibile fare altro sono come dire mascherati da una da una oppure come dire a volte teneramente in una in una coperta esistenziale ecco questo questo sì tutte le storie hanno un senso che va al di là dell'intrattenimento voglio dire che una storia bella indubitabilmente deve avere tutte tutte le le storie grandi o piccole che sono accennate non non vogliono insegnare non vogliono insegnare nulla ma solo mostrare la precarietà del anche degli eventi enormi Haiti secondo me è uno degli esempi più clamorosi del perdurare di questa cosa nella nostra quotidianità di adesso in questo momento ecco Haiti forse è la mia preferita delle isole è appunto isola nota isola sventuratissima e tu la descrivi così scusate vado sempre al testo perché poi uno se no parla sempre sopra i testi ero proprio già lì dici qualcuno un giorno da qualche parte sotto climi evidentemente più innocui si è divertito a catalogare i paesi del mondo secondo il discutibilissimo criterio dello sviluppo ne è venuto fuori un totale di 177 paesi e come prevedibile nessun accordo sul significato dell'idea di sviluppo Haiti occupava comunque la 153 posizione ciò non ha causato meraviglia né discussioni si sapeva Haiti che poteva diventare un simbolo universale uno dei luoghi più celebri del mondo non riesce neanche a essere propriamente un'isola è metà di un'isola poi comincia a spiegare qual è questa ogni tanto ci sono delle informazioni un po' folgoranti anche molto moderne in un libro che invece ha un impianto estremamente lo sentite anche novecentesco questo modo di muoversi di immaginare invece ogni tanto ci sono delle informazioni molto contemporanee pare che una delle maggiori entrate dello Stato di Haiti in tempi recenti siano state e siano ancora le tasse sulle telefonate all'estero una specie di tassa sul desiderio di andare via o sulla gioia di averlo già fatto quindi l'isola com'è una tassa sulle telefonate all'estero aggiungo una cosa che nel libro non ci poteva essere perché l'ho imparata dopo sentendo la tv c'è un'ennesima ribellione delle 3000 che ci sono state che continuano ad esserci Haiti e il capo dei ribelli un ragazzo nero senza arte né parte questo lo senti dire alla tua televisione quando sei lì lo chiamano sapete come? barbecue e sapete come mai per la sua abitudine bruciare i nemici cioè sono quelle cose come Ingeborg questo ci stava però ci stava sì però l'ho saputo dopo come Ingeborg è la ragazza più bella ecco è quella cosa lì che permane non è immaginata non è un'invenzioncina da mettere lì per fare una battuta o una cosa si stanno battendo c'è una parte che ha Haiti in questo momento fra morti di fame pandemie infezioni l'assenza di tutto manca tutto non c'è niente c'è barbecue che lotta non ho ben capito contro chi per il possesso dell'isola in nome dei giovani e ti senti eterno o già defunto quando 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 ti capitano cose del genere oppure ti viene una compassione universale che di cui di cui l'isola in questo caso è l'elemento isolato di cui cosa è emblema ecco andiamo nel nostro trivial quanti di voi sanno il significato dell'espressione nobiltà haitiana lei la sa? ma non me lo dica però in questo modo un po' già mi sento così nobiltà di pacottiglia vuol dire no? questa è una delle cose ad esempio che si scovano qua cos'è la nobiltà haitiana? è la nobiltà di pacottiglia perché Henry Christophe che questo lo scrive Carpentieri un autore che ben conosceva le proprie terre e la propria America soprattutto che è un'America completamente diversa anche quella del sud e da quella che conosciamo ora era un altro un re meraviglioso che aveva sognato di essere Napoleone aveva nominato non so quanti duchi marchesi principi sempre ad Haiti ovviamente sempre sempre ad Haiti perché non ci stavano quasi non so quante fortezze aveva fatto nel 700 questo qua intorno all'isola così poi in seguito e quindi questa è la nobiltà haitiana no? perché è tutta famosa nella diplomazia del mondo per questo motivo qua che vabbè sì sei un conte un marchese ma di Haiti di quello scoglio di quello scoglio lì e poi lui niente in seguito dai creditori dai rivai generali i ribelli si fa dare la migliore divisa eh la migliore divisa la migliore armatura la sua migliore poltrona che si fa mettere davanti a un tramonto tira fuori la pallotola d'argento e si spara sulle cose per sfuggire e chiudere così la questione sono tutti gesti come dire troppo grandi sono anche un po' delle storie di deliri ci sono spesso in queste isole dei cioè c'è un sono deliri di impazzimenti no? in queste isole di deliri di grandezza di deliri di grandezza in un recinto piccolo è questo che mi commuove il libro sembra non iniziare e non finire ma in realtà ha un inizio appunto come tu hai subito prepreso dallo scoglio che dice io sono non io sono un'isola non io sono un regno non io sono una cosa e questo è la cosa più inquietante perché chi di noi può dire io sono nessuno possiamo dire tutti io vivo io esisto ma io sono è un pochettino più difficile e finisce con secondo me ho cercato di finirlo con un'altra isola per carità che è Itaca quindi tutte le cose dell'isola del ritorno eccetera ma però con un altro gesto sovrumano che è di Byron invece che è l'esplosione vitale in quel corpo maldetto e tutto quanto così che è divorato dalle febbli che si era preso in Grecia per andare per lottare per l'indipendenza della Grecia proprio negli ultimi istanti negli ultimi momenti delira 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 e cosa vuol fare vuole lui poeta lui amante della letteratura greca così vuole comprarsi Itaca ecco io questo di Byron che è l'ultimo vuole comprarsi Itaca e potrebbe farlo perché ci avrebbe i soldi per comprarla l'ho trovato come dire l'emblema del commovente gesto sovrumano che a volte cosa vuoi comprarti che isola vuoi comprare devo ci pensarci ancora un pochino forse filtra quella popolo io per una volta Enrico che isola vuoi comprare la Sardegna è piccola hai citato Byron ci sono ovviamente molti scrittori nel libro che è anche un viaggio nella letteratura uno che ricorre ad esempio Edgar Allan Poe che già immaginava isole paurose in cui non era credo stato neanche però una cosa che ad esempio un'altra delle tante cose che non sapevo che mi ha colpito è Rambo a Cipro a un certo punto che racconta anche un qualcosa di ricorrente in queste isole le isole come la ricerca di una fuga di una fuga da quello che si è forse sulla terraferma normalmente e in cui usi un'espressione che vorrei ritrovare scusatemi ci finì pare nel 1878 in novembre nel suo ostinato inseguimento di un esilio assordante nell'oppiaceo di una fuga senza fine che fosse innanzitutto sudore fatica cose e volti elementari corpo questa idea di andare a cercare sulle isole un altro sé fatto solo di cose da fare ecco questa sembra anche noi sappiamo anche cosa fai tu di mestiere qua secondo me lo sanno quasi tutti però sembra che ci sia anche una tua personale fascinazione per l'idea di poter essere un homo faber in un'isola che costruisce si occupa di fare il piccolo armatore in un'isola non mi dispiacerebbe per niente di quei piccoli pescherecci che bisogna sempre un po' manutenere aggiustare così che che si giuro è il leudo volevamo comprare con Gustavo Zagroveschi un leudo per invadere un leudo un leudo è il delirio di trasporto tradizionale di gure ma ci sono andati a Buenos Aires 20 metri 15 metri e altrimenti erano trasporto di acciughe e di cose così tra la Sardegna e la Liguria sì non lo nascondo anche tutto questo lessico questo lessico io questa cosa l'ho sempre guardata con un po' di sospetto di voi del mare che avete tutto il vostro lessico tutte le vostre cose da cazzare ho sempre trovato un po' una cosa che vi fate tra di voi però sei Ingeborg e beh ma sai quando fai di queste cose qua come fai ad andartene via da Conrad e Conrad è la radice di questo però non lo citi mai Conrad vero? è troppo che aleggia ma non so se aleggia no no non lo cito mai non lo cito mai non cito mai neanche Daniele del Giudice che invece citava spessissimo Conrad ma perché lui aveva un'altra macchina in testa non la barca la nave una macchina molto simile che è l'aeroplano ma e che trattava nello stesso modo il fascino di il fascino di questo diciamo del linguaggio tecnico diciamo è proprio quello che è uno scrigno anche quello se apri se apri la parola la parola tecnica vedi etimologicamente filologicamente da dove viene da dove nasce e viene da un intreccio di esperienze voglio dire quindi da un intreccio vitale è già quella è già quella ne parlavamo in cadetrice con Andrea Canobbio anche mi diceva sei un bricolore come raccontatore come metti insieme delle cose che hanno già un significato come diceva Levi-Strauss e ne fai un terzo racconto questo è il linguaggio tecnico è già un linguaggio ricco di immagini è già un linguaggio di cose parlando di isole parlando di mare è impossibile venirne via cioè è impossibile non è piacevole venirne via anzi ci sei dentro ancora ancora un lessico che per te è stato un lessico acquisito da adulto o è una cosa che ha a che fare con no da adulto no appunto sempre per il famoso padre calviniano e pescatore fin da piccolissimo ci portava ci portava a pescare con risultati alterni devo dire però l'importante non è tanto cosa pescare ma come il gesto il modo e le cose quello quelle sono sì quelle sono lezioni sono lezioni di scrittura in realtà come capisci benissimo più che di cultura di letture più di sono lezioni di scrittura vera e propria se uno poi ci torna pensandoci ecco non le non le butta via o non le racconta soltanto come una anerodica che che ha vale come quella di tutti quel che vale senti qua andiamo in isole appunto molto molto lontane fino alla più remota di tutte poi magari arriveremo e andiamo anche in isole dalla dubbia esistenza come Atlantide però in realtà siamo sempre nei pressi del porto di Genova e Genova mi sembra che tu nel libro tratti Genova come se fosse un'isola quasi a sua volta a un certo punto usi questa immagine molto bella il fatto che quando una nave è molto grande salpa da Genova per una specie di problema inerziale non sei sicuro se a salpare sia la nave o se a muoversi sia la nave o a muoversi sia la città in quel momento è come se Genova fosse un'isola che va alla deriva ecco volevo chiederti un po' della tua città del tuo rapporto di cosa ti ha svelato anche del rapporto con la tua città questo lavoro questo succede davvero proprio di prospettiva ci sono le lunghe strade che arrivano piccolunghe sul mare se tu sei in cima della strada vedi in prospettiva e se c'è un grande petroliera un grande transatlantico che passa per un istante sei incerto se sono in casa a spostarsi a sinistra oppure se è la nave che si sposta a destra e Genova è sempre sì io lo vivo come lei si vive come un'isola proprio se tu vedi le vecchie stampe secentesche capisci che Genua deriva da un sostantivo che non vuol dire Giano la cosa due poi il porto quindi con le cose ma deriva da il cavo del ginocchio il porto di Genua era fatto così proprio da lanterna per poter proteggere quel tipo di navi lì era e quindi una città estremamente chiusa poi nel libro la chiamo spietrata che non è un refuso è proprio spietrata nel senso che lo spietramento è quella tecnica di costruzione per cui tu nei declivi ripidissimi della Liguria come di altri posti per cominciare a costruire le terrazze le piane devi radunare in mucchietti le pietre cioè togliere le pietre dappertutto che poi costituiranno i muretti che vengono e Genua è fatta così è fatta a precipizio non la vedi mai in un orizzonte disteso non ha nord e sud a est e ovest è lontanissimo ovest dal lontanissimo a est ma nord e sud sono appiccicati lì come se fosse come se fosse un sentiero indiano o una mesopolitana del futuro ecco diciamo e c'entra molto queste c'entra sì il centro storico è come tutti i centri storici per carità ma non è prezioso tanto quanto altri centri storici questo lo aiuta a essere più labirinto più labirinto labirinto è un'altra immagine infatti che ritorna e mi porta cioè il labirinto ci porta a Creta no? una delle isole isole major che un po' tocchi nel nel libro forse forse fra queste la più vicina nell'immaginario e parli del mito e a un certo punto parli di Cortázar che hai citato prima no? Cortázar è stato un po' non so se è l'autore della tua vita però sicuramente certo è importantissimo uno dei grandi autori della tua vita e parli di una versione del mito del Minotauro di Cortázar che rovescia quello ufficiale questo mi sembrava interessante volevo che ce ne parlassi un po' e anche di cosa c'entra Cortázar con questo libro perché secondo me c'è qualcosa di suo in questo fantastico sì quello che c'è ci rispondo prima dell'ultima cosa quello che c'è di Cortázar in questa idea di fantastico è trattare il fantastico non come una tecnica o come un'elaborazione soltanto concettuale ma come un sentimento appunto questo sentimento che ti dicevo prima del desiderio quando sei in un luogo di essere contemporaneamente in un altro questo c'è in versioni diverse in molti racconti di Cortázar ed è di nuovo anche qui un qualche cosa che non è soltanto un aspetto letterario ma una dimensione esistenziale che si trasforma poi in nostalgia in malinconia in queste cose poco trattabili seriamente diciamo che invece appunto caratterizzano la vita la vita di ciascuno di noi la sua versione del mito che sta in una forse non nella prima ma insomma in una delle primissime sue un poema drammatico che si chiama I Re è questa che Tesio va a Creta naturalmente si fa dare da Arianna il famoso filo per arrivare al centro del labirinto lei glielo dà ma non perché si innamori di Tesio come è il mito vero il mito greco tutto quanto perché lei è segretamente innamorata del Minotauro questo fratello meraviglioso che sa i nomi di tutte le erbe che sa i nomi di tutte le stelle e che si riceve i sette ragazzi da Atene tutti gli anni ma che cosa fa gli educa la danza che è una delle forme la figura del labirinto nella storia della Grecia e di tutte le culture gli insegna loro la danza all'interno e al fondo del labirinto e scopre in questo eroe vanaglorioso che pensa di poter uccidere tutti i mostri della terra attenese rompiscatole quello che può risolvere la situazione è sicurissima dice Cortese che Tesio arriverà in fondo al labirinto ed è ma certo perché non c'è nessun dubbio perché è troppo più intelligente più bello più forte il Minotauro che il Minotauro può ucciderlo con un colpo di corna con un colpo di testa Tesio arriva in fondo e il Minotauro capisce che il suo destino non è quello di sopravvivere a questo eroe grottesco ma è quello di popolare per sempre i sogni degli uomini allora fina la testa e si fa uccidere dall'imbecille e questo è un'altra versione come dire debole del 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 mito debole o fortissima è anche un po' postcoloniale se uno la vede con gli occhi di oggi una visione decolonizzante del mito sai si cortasse come altri autori grandi autori poi ce ne sono stati centinaia decine ma grandi autori latinoamericani avevano questa intenzione la sentivano chi in un modo chi nell'altro chi in un modo più nazionalistico e chi in un modo più invece internazionale diciamo questa idea di liberarsi dal dal folklore ecco e questo era un modo un po' in gel tra un po' ce l'avremo anche noi se andiamo avanti sicuro sicuro questo a volte aveva un aspetto un po' folcloristico a volte molto raffinato come era appunto Cortanza che poi passò come sai la vita a Parigi insomma ecco il titolo fra le isole come entità geografiche geopolitiche ambientali e entità invece immaginifiche entità del mito oggetti di racconto di narrazione e anche un po' c'è qualcosa anche di sudamericano nel senso di fantastico appunto immaginifico e quasi magico e a un certo punto arrivi proprio il pilota non tu arriva a fare una specie di combinazione precisa fra le due cose parlando di Atlantide tu obietti ma Atlantide non è mai esistita non è un'isola vera dico al pilota è un mito e il pilota risponde e i miti secondo lei non esistono Atlantide è più di un'isola le dico forse traffica male con la realtà ma non con la verità non è una domanda però mi sembrava che fosse giusto mettere l'accento questo è una delle caratteristiche cioè la verità in senso viene da dire quasi psicanalitico analitico ciò che è vero ma non è reale magari un incubo un sogno una cosa che non è reale non ha nessun aspetto storico concreto di esperienza però determina condiziona e anche anche irrimediabilmente la tua vita e allora questo contrasto tra la realtà delle cose fa tutto parte in effetti di un sentimento che attraversa il libro che è questo contrasto interazione contaminazione tra quella che è la verità che è sempre una cosa molto complicata da non solo da definire ma anche da vivere mi sembra e la realtà sia una cosa complicata sia una dialettica che a volte non funziona siano due reami separati che ci condizionano in modi completamente diversi saperli tenere insieme e sapere dove si incontrano beh è un principino di bussola ecco che cosa ti ha svelto questa è un po' marzulliana però te la voglio fare perché secondo me è fra come dire tu sei un po' ogni tanto ci sono dei lampi ma sono veramente dei lampi della tua vita nel libro però un tuo sentimento mi sembra essere molto presente nel libro hai parlato della nostalgia hai parlato della dislocazione però volevo chiederti se c'è qualcosa di te che la scrittura di questo libro un po' ti ha svelato o ti sembra svelare invece fuori questo sentimento di cui abbiamo parlato secondo me questa idea te la dirò con un'altra cosa sto scrivendo un altro libro che contempla i sentimenti trovati te l'ho raccontato forse una volta tutti noi nasciamo con dei sentimenti di dotazione amore ti muovo un catalogo il libro ci sono cinque un cataloghino amore odio gelosia invidia che sentimentone che è l'invidia determinante negativamente un sacco di cose questi sono quelli in dotazione come dire tu fai questo viaggio devi avere questo panino e poi ci sono quelli trovati che trovi dove è lì il bello tra l'altro li trovi in una tua situazione in una tua esperienza magari in una tua sensazione li trovi perché incontri un amico o una donna che te li suscita e non pensavi neanche che esistessero li trovi in un quadro però li trovi magari in un libro non è così ovvio trovarli in un libro c'è una paginetta anche lì di Cortázar non sempre per rimanere a lui ma perché ne sono innamorato che si chiama il sentimento del non esserci del tutto lui descrive appunto se stesso che scrive e se stesso che fa tutte le cose descrivendo se stesso come sì io vedo l'oratore che parla fa un discorso per fare degli esempi fa un discorso molto serio molto impegnato perfettamente rifinito tutto quanto e l'occhio invariabilmente mi cade sulla scarpa insaccarata e mi distranno e non riesco più a stare attento avere sempre partecipare a tutte le situazioni ma avere sempre come dire anche l'occhio teso a quella porta che è aperta per andare a giocare di cui nessuno si accorge improvvisamente ecco questo lì ho trovato uno dei miei sentimenti trovati ecco il sentimento di non esserci del tutto che perdura ininterrottamente e forse esisteva anche prima anzi sicuramente esisteva prima che lo scoprissi in me bello su di me sta prendendo il sopravvento invece quel sentimento di non esserci del tutto senti il libro è dedicato ai tuoi figli da Giorgio Andrea dove lì qual è una di queste isole che non hanno visto e in cui fantasticheresti e che fantasticheresti di far vedere loro Lofoten direi che freddo è freddo freddo ma bellissime cosa hanno le Lofoten la forma bellissima sono o forse chissà no per quella degli orsi bisogna avere contatto con gli orsi quindi non ce li porterei tanto volentieri un bel viaggio tra gli orsi ermafroditi ma no facciamo una cosa poi sono ferocetti sicuramente i miei figli corrono più di me quindi non saprei però però sì e poi perché mi vedi delle luci mica male se ci vai in certi momenti del mondo questo senti chiuderei con quello che mi sembra essere una specie di lancio anche un po' misterioso che a un certo punto fai sulle isole e sul loro senso esistenziale dici così guardata dalla fine la storia di molte isole sembra la storia probabile del pianeta con tanto appunto di catastrofe conclusiva ne viene fuori un catalogo molto vario e fantasioso è come se qualcuno avesse usato le isole come messaggi in bottiglia affidati alle acque ce le siamo contese strappate conquistate e riconquistate le abbiamo vendute e le abbiamo amate ma forse più difficile è semplicemente leggerle in questo senso noi genovesi c'erano i cavalieri di Malta che si battevano a centinaia contro migliaia di saraceni e morivano tutti e difendevano l'isola fino allo stremo i governatori genovesi li vendevano questo volevo dire vediamo un po' e mettiamoci d'accordo c'è sempre questa dimensione come dire ironica ecco le cose ripeti un po' cosa che mi hai chiesto mi sono distrato con questa cosa no non te l'ho chiesto cioè era la mia chiusa veramente ottima chiusa che peraltro era tua infatti ottima cioè molto molto bella grazie facciamo una chiusa invece da editore questo mi ha dato anche cioè leggerti poi mi ha dato anche questa si possono scrivere questo è un libro colto l'avete capito anche cioè un libro molto emotivo con molto sentimento però è anche un libro molto colto si può ancora scrivere letteratura colta? adesso ti devi sdoppiare letteratura colta non so se prenderla bene o male nel senso nel senso che capisco cosa vuoi dire sì 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 perché la letteratura la cultura nel senso che intendi tu quando la fai lavorare come mito come racconto è una cosa possibile le parole non sono alte o basse sono giuste o sbagliate è vero che c'è come dire la sintassi che le coordina e le mette insieme ma secondo me il primo compito del scrittore è fare arrivare appunto il come dice le cose non non soltanto il cosa ecco questo è un limite grosso della letteratura contemporanea che scambia questi due aspetti qua che invece vanno 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 uniti nel tuo Tasmania tu lo fai sai benissimo tutto ciò che riguarda la bomba e tutto quanto entra nel libro come una condizione di ciò che è successo di ciò che il protagonista sta andando in giro così ma come un sentimento del mondo come un sentimento del mondo di quel che siamo ti finisci dicendo forse noi quello che lasceremo sono radiazioni e questo alla fine del tuo libro il lettore piange e voglio dire questo è un modo completamente diverso molto più complesso tutto quello che vuoi ti faccio tutti i complimenti che vuoi però è un modo per fare letteratura che arriva come è arrivato al libro potentemente arriva potentemente perché c'è ci sono le cose che fanno piangere un sentimento del mondo un sentimento delle isole e un sentimento intimo storie fantastiche di isole vere grazie Ernesto grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te